che si erano già sfondati, poi praticamente là bisognava continuare con l'intervento perché i fondi si riparavano le urgenze insomma No, no, ma infatti devi tamponare, quindi non ho paura per questi alberelli qua I alberelli, oramai la vegetazione infestante è cresciuta Anche quello che è modesto, va bene, devi metterci comunque i ponteggi No, non è una cosa semplice Ma voi che ne siete accorti per caso il 1 maggio? Sì, siamo accorti, siamo accorti, la segnalazione è arrivata dall'aeronautica insomma, che evidentemente hanno sentito il rumore del primo crollo Poi siamo andati a vedere pure il bucare più piccolo Lei con la ditta, la bisogna comunque rimuovere le prime i calcinacci Quindi ancora non si è fatta l'azione di bucare? No, è oggi, però oggi è domani mettono la parte nuova del tetto Tu puoi agonare la scuola, invece questi 4 Io sono quintano Eh, di rame, ma certo Non ha la funzione di far scaricare la massa A me, dai miei ricordi di scolastro Proprio perché là dopo, appartamento all'800 Quel piano lì, quelle finestrele, là No, no, la comandata stava all'altra parte Che poi, perché se è cammino, la comandata, non ci sta più qua Sanno ancora 1.500 metri Vedo, là sopra ci vanno loro Ma io non credo che... Questi sono gli alloggi? Sì, queste sono le camerate, queste finestrele aperte Ma ci sono i servizi igienici, sotto là C'è i servizi igienici dell'aeronautica Quindi non sono gli appartamenti proprio Sono le camerate Sì, ma voi siete deputati all'abattamento Perché si hanno fatto un abuso Scusate Sono dagli anni 40 che non lo stanno avanti Nessuno ha approccio Noi conosciamo gli appartamenti Noi conosciamo l'abattamento Siamo Sardà Bussello, nostra speranza 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 Vabbè qua chiudiamo Siamo i ragazzini, ci siamo al posto Ma certo Qua sono gli interventi che secondo me Qua sono interventi che sono stati fatti erstmal altri anni Grazie a tutti